ciao a tutti ragazzi e ragazze benvenuti sul mio canale oggi vi propongo un video per quanto riguarda astra e qualcosuccia per quanto riguarda sconti da kiko ho fatto due ordini perché c'erano gli sconti per quanto riguarda astra ho preso delle cose non scontate perché volevo provare alcuni prodotti e visto che qui io non la trovo assolutamente quindi ho fatto un ordine direttamente dal loro sito invece per quanto riguarda kiko c'erano degli sconti molto molto succulenti e quindi l'ho voluto prendere ho fatto un ordine e ho preso alcune cose che erano al 50 per cento più c'era un altro sconto del 10 per cento 20 per cento una cosa del genere iniziamo con astra perché non vi sboccerò niente perché devo uscire ma ovviamente vi metto nell'info box il mio instagram dove li vedrete tutti gli swatch tutti particolari e tutto quello che io metto allora per prima cosa ho sbagliato ad acquistare ho preso due fondotinta questi qua di astra ho sbagliato cosa non è che ho sbagliato a prenderlo perché non mi piace ancora lo devo provare ho sbagliato perché ho preso la stessa colorazione ho preso la 0 1 io volevo prendere la 0 1 e la 0 2 invece nel carrello ho messo 2 0 1 lo voglio provare e vi farò sapere ovviamente il packaging è questo qui lo conoscete tutti è quello con il pennellozzo ed è molto molto bello l'ho provato sulla mano sembra buono il colore quindi speriamo che mi ci trovo bene visto che ne ho due brava depania iniziamo benissimo un'altra cosa che ho preso perché ovviamente l'ho sentito nominare da della mia guru personale giulia cova e quindi ho voluto prendere questo spray per quanto riguarda il viso non ho provato questi prodotti l'unica cosa che ho provato sono dei correttori ma che avevo acquistato in precedenza e quindi non vi so dire se mi piace o non mi piace questo ovviamente è un haul di acquisti questo è uno spray un fix in spray multifinzione e niente rinfresca il trucco eccetera eccetera poi ho preso tre correttori ho preso il numero 2 il numero 3 il numero 4 perché io ho il numero 6 se non mi sbaglio anche il numero 5 comunque i correttori sono questi tutti ne parlano benissimo di questi correttori quindi li ho voluti prendere li testo e voglio vedere se trovo proprio il colore adatto per le mie bellissime occhiaie che sono un amore non vi ho detto i prezzi cretina allora i long lasting concealer sono venuti 4 euro e 90 ciascuno i fondotinta sono venuti 9 euro e 90 ciascuno e lo spray è venuto 5 euro e 90 l'ultima cosa che vi faccio vedere vedere di 4 euro e 90 sono le due cipre e ho preso queste due cipre qua tutti ne parlano benissimo e quindi ovviamente che fai stefania non li prendi è certo che li prendi ho preso le due cipre proprio in particolare ho preso la translucent questa è una polvere riso ed è quella proprio bianca vi faccio vedere il packaging ha il puff qui si toglie e poi ha i puntini dove deve uscire diciamo la cipre che fa metti a fuoco oggi o ce l'hai con me ecco qua questi i puntini questi qua e ho preso questa bianca che è famosissima che dicono tutti che è ottima e poi ho preso la 02 che è la cipre in polvere vettel script luce powder nella colorazione 02 perché dicono che sia ottima e anche il colore mi sembra che sia giusto per quanto mi riguarda e quindi l'ho voluta prendere io ho delle cipre un po' scure che ho sbagliato a fare degli acquisti in precedenza ma le utilizzerò quando utilizzerò i fondotinta quelli trucchiare tocco così perché mi sono truccata quindi sto scherzando andiamo con l'ordine Kiko cosa ho preso cosa ho preso cosa ho preso allora ci sono tre prodotti che ho preso in precedenza dove mi hanno dato anche una pochette che adesso vi faccio vedere questa era una collezione vecchia dove acquistando tre prodotti vi davano questa pochette io non ve l'ho fatta vedere perché in quel periodo non stavo bene quindi non vi ho fatto il video haul la pochette in questione era questa con questo anello proprio lo potete attaccare anche al naso e questa è una piccola piccola pochette molto molto carina ci entra anche un braccio di un bambino ma comunque bellissima bella 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 allora dovete acquistare tre prodotti e io ho acquistato i tre prodotti di questa linea che si chiama la pop revolution che sono questi allora io ho preso quella volta il primer per quanto riguarda la Kiko questo è il formato del primer quindi a forma di disco della pop revolution e questo è il primer loro dicono alcuni youtubers dicono che assomiglia al primer al primer più famoso non mi sbaglio se è di touch io non lo so non conosco e non vi so dire proprio esattamente io so soltanto che il microfono mi sta togliendo tutto il maglione e quindi è un primer che viene identificato come un dupe di un primer abbastanza famoso e quindi l'ho voluto prendere non lo sto toccando perché non lo sto utilizzando perché sto finendo il primer di Catrice e quindi appena finisco quello inizierò con questo sono molto curiosa di provarlo ha uno specchio enorme e vediamo se è buono oppure no gli altri due prodotti che avevo preso sono questi e questi di questi devo dare la colpa a Lizzi a Fabiana perché è stata lei che aveva acquistato uno di questi due quindi mi ha messo curiosità e l'ho voluto prendere ce n'erano tre io ne ho presi due ho preso lo 01 Brown Shield il packaging bello che dirvi e sono due ombretti molto molto particolari sono shimmer ovviamente e sono questi qua questi colori qua allora a me piacciono piacciono veramente tanto però devo ancora capire se proprio questi colori li voglio tenere oppure no sono indecisa sinceramente perché mi piace di più l'altra che vi sto per far vedere che è la colorazione 02 Red Brown e move 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 malva sarebbe questa che credo sia la più ideale per quanto mi riguarda perché mi piacciono molto di più i colori e tutto quindi non so decidermi tra tutte e due ma vi farò sapere ma di più mi piace questa sinceramente quindi credo che già ci sia la vincitrice poi questo era per quanto riguarda l'ordine l'ordine sono stata da Kiko e avevo preso questi tre prodotti e mi hanno dato la pochettina invece adesso con gli sconti ho deciso di prendere altri prodotti ovviamente che fa non li prendi mi hanno regalato cioè mi hanno dato questa qui che per quanto riguarda la skin care che è una smart hydrant short cream quindi una crema idratanta che è questa qua allora cosa ho preso? sempre della pop revolution ho preso delle matite la 01 e la 04 queste sono state presi con lo sconto del 70% più il 10 o 20 non mi ricordo ho preso la 01 per quanto riguarda una matita beige che mi serve per metterla all'interno dell'occhio e far risaltare di più l'iride all'interno e far sì che l'occhio sembra molto più grande quindi si utilizza una matita color burro questa è una matita tradizionale proprio con la punta tipo da colorare ed è questa vediamo se si vede sì ovviamente la devo provare e poi vi farò sapere ed è una matita nude vabbè colore proprio oggi non vuole collaborare all'interno troverete anche il temperino perché è una matita così piccola che ha bisogno del suo temperino personale poi siccome sono alla ricerca della matita nera che mi rimane intatta almeno un'ora un'ora e mezza due ore non lo so all'interno dell'occhio ho deciso di prendere anche la 04 perché è una matita nera questo è il temperino che è trovata all'interno e questa è la matita nera vediamo il tratto di questa matita sembra abbastanza dura però ovviamente devo provarla all'interno dell'occhio questa è la matita nera speriamo che tra tutte le matite nere che ho acquistato in questo periodo abbia azzeccato almeno una chi lo sa se ci sarà qualche vincitrice per quanto riguarda le matite nere ma ma mi sa che utilizzerò come sempre l'eyeliner poi ho preso questo prodotto che è di una collezione la Dark Truuser ed è adesso vi dico che cos'è è un fluido perfezionante viso con polvere di diamante ad effetto luminosità istantanea la texture impalpabile estetosa è arricchita con acido viaruronico quindi è adatta a Stefania questa è la boccettina mi piace tantissimo anche questa anche questa ha il dosatore a pompetta quindi allora questo è il prodotto ovviamente lo proverò ovviamente molto spesso mi dite ma perché acquisti questi prodotti per te eccetera eccetera io ho un viso maturo ovviamente ho 40 anni quindi automaticamente devo non ho molte rughe non ho molte discolomie sul viso e tutto però ovviamente devo dare un po' di luminosità sul viso perché ho una ho una pelle spenta e opaca ho una pelle secca quindi devo dare un po' di luminosità un po' di idratazione quindi è normale che acquisto dei prodotti adatti al mio tipo di pelle mi sembra ovvio poi ho preso tre prodotti per quanto riguarda questa che è il party all night ed ho preso il glove makeup fixer che sarebbe uno spray questo qui questo lo utilizzerò sicuramente in estate non lo utilizzerò di sicuro ora perché credo che sia anche un po' illuminante e anche perché ha delle particelle all'interno che dà quell'effetto credo glove infatti e quindi ho paura a utilizzarlo adesso allora questo è uno spray fissante dal finish luminoso agitare prima dell'uso dopo il makeup vaporizzare viso ad una distanza allora questo si deve mettere dopo il makeup si vaporizza ovviamente sul viso ad una distanza di 20 cm tornare c'è scritto vi raccomando tenendo la bocca e gli occhi chiusi non inalare cioè è pazzesco io mi spruzzo questa cosa così cioè vabbè ho capito perché l'ha chiesto perché l'ha scritto comunque dice di chiudere gli occhi di chiudere un culo buco per quanto riguarda questo ma lo utilizzerò sicuramente in estate perché mi piacerà di più con la bronzatura avere questo effetto illuminante sul viso un altro prodotto è questo ed è la Jelly Highlighter questo è un illuminante sempre che utilizzerò sicuramente di più in estate ed è un illuminante che può essere utilizzato è un all over in gel è un finish perlato non dice se può essere utilizzato anche sul corpo ma io lo utilizzerò anche sul corpo perché quando l'ho visto il mio pensiero è andato tipo al décolleté qui sulle spalle sapete quando utilizzate quei quei vestiti più particolari scollati dove mettete qui in questa parte mettete un po' di illuminante oppure qui sulle spalle bellissimo il packaging è fantastico molto bello perché ha tutti questi brillantini qui nel tappo e il prodotto è questo è molto aspettate che tolgo la parte in più ed è questo qui vedete è un rosa molto molto perlescente ed è bellissimo specialmente con l'abbronzatura ha un effetto particolare cioè è troppo bello e questo veramente con l'abbronzatura se avete dei matrimoni o delle cerimonie in particolare specialmente in estate volete quell'effetto glove non so se si vede ce l'ho messo qua è un effetto pazzesco ed è molto molto bello è una cosa molto sexy mi piace l'ultimo prodotto che vi faccio vedere è una matita che è party all night eyeliner di che colore sarà di che colore sarà di che colore sarà gridatelo tutto insieme è nera ovviamente ed è una party all night lasting eyeliner e questa ha la punta quella che è retraibile quindi non è retraibile si è retraibile ed è quella retraibile allora è molto più morbida di quella di poco fa e il nero sembra sembra più più scuro sarebbe questa giusto questa qua questa la matita è questa qua sembra molto più nera morbida bella morbida e scorre perfettamente quindi speriamo speriamo bene allora ragazzi per questo video è tutto io adesso vi saluto perché devo uscire quindi non posso più trattenermi con voi che dirvi ragazzi ditemi cosa ne pensate dei miei acquisti se volete qualche video se volete un video make up per quanto riguarda questa palettina adesso vedrò quale era la palettina uguale a quella di fabiana così possiamo anche fare un video insieme e niente che dirvi io vi metto i video in collaborazione con fabiana e elisabetta qui sopra perché sapete tutti che noi su telegram ci facciamo chiamare le make up angel e quindi ovviamente se volete potete anche vedere nel nostro gruppo tutti i nostri video perché ogni giorno pubblichiamo i video sia quelli vecchi che nuovi ne pubblichiamo abbastanza quindi potete anche vederli tramite telegram se volete io vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre se vi è piaciuto il mio video spolliciate e se vi va noi ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao